Buon pomeriggio. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a voi. Allora, consigliere, piani di zona, massima francazione, cioè che vuol dire lobolo da pagare al comune per tornare in possesso pieno di queste case nei piani di zona, la truffa fatta a tanti romani ma fatta anche alle casse comunali, fatta anche alla Regione Lazio che non ha controllato. A che punto siamo? Perché noi abbiamo parlato con l'allora Assessore Berdini qualche mese fa, ne abbiamo parlato anche oggi con i comitati dei cittadini, penso a Montestallonara, però ci sembra che la procedura di affrancazione stia procedendo molto lentamente. Allora, guardi, buongiorno. Sono due temi differenti. Ma collegati. Quello che riguarda... Come? Differenti ma collegati. Assolutamente sì, però sono differenti nella loro natura sia giuridica che amministrativa di piani di zona, per quello che riguarda le operazioni che stiamo portando a termine e quella che si è conclusa Berdini sul rispetto dei prezzi massimi di cessione e che poi, insomma, in qualche maniera apre anche il controllo verso la corretta esecuzione delle opere pubbliche che erano legate a queste operazioni, sono una cosa, una questione. L'altra è quella delle affrancazioni che è partita tra l'altro ad agosto e che procede molto a rilento, come dice lei, è un'altra. E' chiaro che sono molto collegate, ma per quello che riguarda il diritto amministrativo hanno due percorsi ben distinti. E allora, come ci si sta muovendo? Allora, facciamo il punto su queste due, diciamo, braccia dello stesso corpo. Tanto sui piani di zona l'inchiesta della magistratura che va avanti, ci sono degli indagati, no? Se ovviamente si sta al continuo, la magistratura continua ad andare avanti rispetto a questa situazione. Al momento, però, e questa è una domanda che ci fanno in tanti, nei piani di zona dove si stanno attualmente vendendo le case da parte dei costruttori che partecipano ai piani di zona e ai privati, viene controllato il prezzo di vendita? Parlo delle case di oggi, non quelle di dieci anni fa. Sì, allora, per quanto riguarda, ripeto, le affrancazioni, l'amministrazione ha preso atto che il dispositivo che ha inoltrato ad agosto ha prodotto presso gli uffici un lavoro che noi dirighiamo comunque ancora non soddisfacente, quindi è già intervenuta a dicembre con un nuovo aiuto, nuove risorse, ma anche queste comunque non stanno dando i risultati che attesi. Quindi è chiaro che adesso andremo a, non posso anticipare nulla, andremo ovviamente a definire una nuova modalità per poter affrancare in termini molto più veloci. Ah, quindi questa è una novità, questa è una novità su cui state lavorando in questi giorni, quindi? Sì, sì, beh, è chiaro, quelle che sono le esigenze della cittadinanza vanno messe al primo punto. Noi quando diamo una disposizione agli uffici ovviamente la diamo anche in funzione di quello che è la risorsa disponibile e in questo momento le risorse disponibili, oltre a essere poche, sembra anche che non riescano a gestire la molle e il scarico di lavoro che gli arriva attraverso queste procedure di affrancazione. Per quanto riguarda invece Tenerizzona il discorso è completamente differente, perché come sa lei, come la dita, noi abbiamo avviato a inizio settembre un'altra filiera di amministrativa che era il controllo su tutti i piani di zona, ripeto, per quello che riguarda il rispetto dei prezzi massimi sia di gestione che di locazione. Questa attività da parte degli uffici è stata portata avanti, al momento ci sono delle valutazioni da parte nostra e anche qui ci sarà una importante novità a breve, perché ovviamente insomma noi quello che vogliamo ottenere è il risultato e non abbiamo intenzione di star dietro a quello che comunque per quanto riguarda gli uffici rappresentano degli ostacoli. I problemi vanno risolti e quindi a fronte di evidenze non c'è altro da fare che trovare delle soluzioni alternative. Quindi insomma mi pare di poter dire che c'è un'attenzione massima da parte dell'amministrazione comunale a trovare una soluzione che dia rapidità di risposta ai cittadini romani interessati, questa mi pare la cosa che va accolta rispetto a quanto lei ci diceva. Il rapporto con la regione, perché della regione non si parla mai, ma anche la regione ha una responsabilità. Guarda, io la sento molto bassa, faccio una certa fatica. Chieda alla regia se mi alza i toglie. Dico il rapporto con la regione. Sì, ma ho capito la domanda. Sì, il rapporto con la regione è, come in tutti gli enti locali, un rapporto che è basato rispetto ai contatti che avvengono tramite le strutture di assessorati, quindi sta andando avanti. Noi abbiamo rilevato anche lì, rispetto soprattutto per quello che riguarda i pieni di zona, una lacuna, perché ovviamente le appelle riferite ai prezzi devono essere uno strumento che la regione deve mettere a disposizione e che invece è stato in qualche maniera delegato al comune. Anche questo ha comportato la mancanza del controllo così detto analogo. Ora, chiaramente cercheremo di capire attraverso il nuovo assessore quali possono essere le misure per poter rimettere in piedi questo strumento che per noi è fondamentale. Insomma, da parte anche di un'altra amministrazione, avere quella forza sinergica, soprattutto per quello che riguarda le risorse, come dicevo prima, per poter dare ai cittadini delle risposte anche nei termini del controllo, quindi il corretto funzionamento, la giusta applicazione della norma. Tanto ci è arrivata, chiedo alla redazione, la conferma, un comunicato dell'assessore all'urbanistica, il neoassessore all'urbanistica che dice che a Tor Vergata, sempre in riferimento ai piani di zona, sono stati requisiti otti immobili su cui pendeva lo sfratto per chi ci stava dentro e attraverso questa requisizione il comune impedisce lo sfratto di otto famiglie. Anche questa mi sembra una buona notizia, mi sembra. Sì, è un provvedimento su cui stavo lavorando da tempo, si è perfezionato a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione del diritto di concezione della superficie su cui erano stati costruiti questi immobili. Quindi non si tratta di un requisito, in realtà si tratta semplicemente di essere tornati in possesso attraverso il diritto di superficie. Sì, nel rispetto di quello che è lo strumento che regola il contratto tra la pubblica amministrazione e l'operatore privato. Nel strumento della convenzione dove c'è scritto tutto, basta semplicemente applicare quello che c'è scritto in questa convenzione, soprattutto per quello che riguarda il disciplinare dell'articolo 14 e l'articolo 15 per quanto riguarda le sanzioni. È tutto molto chiaro, bastava farlo. Noi siamo molto stupiti rispetto al fatto che in questi... Io sono un attimo fatto un posto, insomma, ancora ho detto 20 anni. In realtà, per quanto riguarda la volontà di gara, sono 18-17 anni che va avanti questa cosa. Comunque sono una quantità di tempo assolutamente assurda. Noi, in qualche maniera, al di là del nostro compito, del nostro mandato amministrativo, c'è anche un piano umano. Mettiamoci in queste situazioni familiari, dove tutte le notti hai questa paura che il giorno dopo ti verranno a togliere la casa, la metteranno in vendita all'asta, nonostante tu quella è pagata. Cioè, non era una cosa bella. Perché chiaramente, insomma, basta semplicemente, bastava anche al tempo applicare la norma. Invece sono stati fatti una serie di provvedimenti, uno del l'altro, che hanno in qualche maniera disatteso, oltre a aver disatteso la norma, scusate, e hanno fatto anche in modo di cambiare in parallelo dei procedimenti giuridici che, insomma, hanno creato una confusione terribile con ulteriore spesa da parte di questi cittadini di, insomma, spese legali. Cioè, l'assurdo, l'assurdo totale. Insomma, l'administrazione doveva in qualche maniera controllare anche a tutela di quello che è il finanziamento pubblico, un finanziamento che è pagato, come tutti sapete, da tutti i cittadini. Quindi questa roba è abbinata. Insomma, noi abbiamo appena iniziato a governare, ma anche in otto mesi può essere oggi una città. Però ecco, ci sono segnali che vogliamo dare in maniera molto chiara, perché siamo fuori eletti per questo. Insomma, normali cittadini che applicano le leggi per quello che sono. E allora, io ringrazio il consigliere Pietro Calabrese. Ovviamente rimaniamo in attesa di queste novità, anche per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro che serve ad affrontare l'emergenza, soprattutto di chi vuole liberare dai vincoli la propria abitazione. A risentirci presto. Buon lavoro. Grazie a voi.